Definirla giornata storica è poco, è una giornata che ci ricorderemo, almeno io, tutta la vita e moltissimi veneti assieme a me, ma ci ricorderemo questa data assieme a quella del 22 ottobre 2017. Quindi due date importanti per dire cosa? Per dire che il percorso dell'autonomia prende sempre più corpo, con questa giornata storica abbiamo la prima pietra miliare dell'autonomia, ovvero l'approvazione al Senato della legge. Andrà alla Camera, io spero che verrà approvata con altrettanta velocità, dopodiché verrà pubblicata in gazzetta ufficiale e a quel punto presenteremo come Veneto la nostra proposta di contratto d'intesa con lo Stato per avere l'autonomia. È un percorso che è durato parecchi anni, un percorso che comunque abbiamo seguito con attenzione e mi sento di ringraziare i 2.378.000 veneti e venete che sono andati a votare quel 22 ottobre 2017 per il referendum. Qualcuno diceva che non serviva il referendum. Ecco diciamolo cari veneti e venete, se non avessimo noi fatto il referendum oggi non staremmo qui a parlare di autonomia. Il referendum è stato veramente il booster per usare un termine che spesso viene utilizzato e quindi è stato il turbo, l'acceleratore per poter parlare di autonomia in questo paese. Possiamo dire che è una grande scelta di responsabilità, l'autonomia di modernità, si esce da questo centralismo medievale che ha fatto danni. Se c'è un'Italia a due velocità oggi non è per colpa dell'autonomia perché non esiste, ma è per colpa del centralismo e dell'assistenzialismo mal gestito. E dall'altro la volontà di dare ai cittadini da nord a sud una grande opportunità, che è l'opportunità della modernità, di un nuovo rinascimento per questo paese. Come cittadini avremo davanti interlocutori certi, avremo davanti regioni e comuni che avranno competenze esclusive, ma avremo davanti la possibilità anche di controllare i nostri amministratori, sempre di più, perché l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Avanti tutta.